Il 6 dicembre 1981 nasce a Torino Federico Balzaretti. Dopo aver giocato con le selezioni dell'Under 20 e dell'Under 21, riceve la prima convocazione in nazionale maggiore a quasi 29 anni. Al CT Cesare Brandelli non sfuggono le sue brillanti prestazioni in campionato con la maglia del Palermo e il 17 novembre 2010 gli regala l'esordio dal primo minuto, in occasione dell'amichevole contro la Romania. Quattro le sue presenze, condite da un gol, il primo e unico in maglia azzurra contro l'Irlanda del Nord, nel cammino per le qualificazioni agli europei del 2012 in Polonia e Ucraina. Manifestazione alla quale partecipa pur non giocando inizialmente da titolare. Il suo debutto avviene in occasione della terza partita del girone del 18 giugno contro l'Irlanda. Da lì in poi le gioca tutte, fino alla sfortunata finale persa contro la Spagna. Il sogno dell'Italia si infrange bruscamente sul muro eretto dalle furie rosse. Balzaretti però ne esce a testa alta, essendo stato uno dei migliori azzurri nella spedizione in Polonia e Ucraina.